Volevo chiedere al Ministro se lei si ha fatto un'idea di quali sono le reali possibilità di sopravvivenza del Governo e se magari ne ha parlato con i suoi colleghi della delegazione del PDL, appunto se ha percepito la possibilità che eventualmente si diventano. Io sono perché il Governo duri, mi pare l'unico Governo in grado di tenere insieme sviluppo e di filtra sociale, che sono due cose che devono necessariamente essere presenti nell'attività di un Governo, non vedo in questo momento l'alternativa, mi rendo conto delle difficoltà, non sono in grado di fare particolari previsioni se non quella che non c'è in questo momento un'alternativa a questo Governo.